Bella a tutti ragazzi, io sono IvroChannel e oggi ragazzi siamo qui su... Sì, CleverBot, lo so, non l'avete mai visto, mai, non l'ho mai nominato ragazzi, ma ho tantissima voglia di provarlo insieme a voi Sarebbe un bot che risponde a delle domande, quindi mi raccomando nel prossimo episodio, se vi piace su CleverBot, scrivete qualche domanda nei commenti, va bene? Intanto iniziamo Salve, come ti chiami con la linguaccia? Allora ragazzi, io vi dico che l'ho provato e le moggi non le ho mai messe, ok? Come ti chiami? Genoveffo Uh ah ah ah, cazzo ridi Niente, così Allora ragazzi, adesso proviamo ad approcciare Ma, tu sei femmina? Aspetta, sì Femmina? No, sono maschio Io invece sono proprio... Ma non avete detto se... Guarda, io non ho detto proprio niente, quindi non so cosa stai dicendo Non è vero All'inizio tu mi hai chiesto se fossi femmina Ti ho risposto di no e ti ho chiesto ma mi hai risposto femmina Guarda, secondo me tutti i droidi, cioè ti fai dei droidi che pazzesche Se guarda, secondo me tutti i droidi ci ha riferito che pazzesche Credo che tu sia stato... Tu sia stato creato per fregare la gente Cosa? Cosa? Ma perché? Allora, cosa ne pensa di FIFA? Bravo, è di FIFA 21? È bellissimo, vero? Cosa? Puppa me lo imposa! Ma sei maschio quindi ce l'hai Complimenti, ci sei arrivato Ma tu sei che? Hermione? Sì, sei Sofia Sono una ragazza, non lo sapevo Non lo sapevo proprio Hai mai visto YouTube? Sì, me gusta mucho Perché mi hai risposto il spagnolo? Ehi, sto parlando di italiano Cioè non so se mi capisci Haide, sto parlando di italiano e non so se mi capisci Se hai capito Scusate, non sto capendo il gioco Che cazzo vuol dire Haide? Cioè dirmi cosa avete capito voi Perché io ho parlato correttamente Poi vabbè Adesso ragazzi Proviamo seriamente ad approcciare Prima Era maschio Adesso inizia una conversazione Deve ora essere femmina Tu sei maschio o femmina? Ragazzi Attenzione, possiamo rimorchiare un robot E quindi siccome io sono un maschio Usciamo insieme? Ok, e come ti chiami? Mi chiamo Genoveffo E te? Ah, allora ciao Genoveffo Sì E tu invece come ti chiami? Basta, ti ho già detto come mi chiamo Ok, scusa Allora, quando usciamo Quando vuoi, te è Marco Chi cazzo è Marco? Io prima ho detto che mi chiamo Genoveffo Ok, campione, vabbè Vabbè, vabbè Non si è sbagliato il nome Sicuramente non sta scrivendo come un altro No, no Facciamo ora Sì, sì Oh, me stai prendendo il culo Allora ci vediamo in piazza Va bene, alle nove Ok Ragazzi, adesso si va Che cazzo sono Ok, ragazzi Adesso si va su lot Non lo so, ragazzi Ti lecco L'ascella Eh, lo so, ragazzi Cose piccanti, eh L'uascella Maiale Cazzo Vabbè, certo se L'uascella è molto da maiale Ti sputo nell'occhio Eh, ragazzi Lo so, è molto Nell'occhi Vabbè Ti meno Ma no No, è grebo È grebo Ragazzi, mi bullizza Ok Sei maschio? Beh, è stupida Cioè, è stupida questa Sì Come te lo devo dire Cosa ti pensi di Harry Potter? Lo adoro Ok Qual è il tuo film preferito? Il mio è La pietra filosofale Vabbè, dai Ma uno che ti simpatizza di più L'avrà È uno preferito Ma dovendo scegliere No, no, no È stupido sto robot Che pizza Aspetta, va bene, dai Ti simpatizza di più La play 1 preferito Ok, forse è per questo Che non l'ha capito Ho scritto proprio male Allora Cosa ne pensi di Hunger Games? Penso che sia bello E qual è il tuo personaggio preferito? Sei Sei Cioè Lei dice che è bello Ma poi ti ho detto Che non l'ho visto Non è vero Non me l'hai detto Tra l'altro mi sta cascando pure il micro Non me l'hai detto No, non è vero Non me l'hai detto Ho detto che era pure bello Mi chiamo Elena Ok Ma se ti deco la scella Va bene Mi va Ragazzi Elena forse ce la potrebbe dare Sì, va benissimo Ok, inizia tu Cosa? Allora ci vediamo in piazza alle 9 No Va bene se vieni a casa mia No, 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 no Scappa, scappa Dove Dobbiamo andare in Las Vegas Mi dispiace Addio Ciao Secondo te la Apple è la migliore? No, ho già una migliore amica No, eh Sì Sì La Apple è una marca di telefoni Ma anche di computer Is there someone else There I can speak to? No, sono italiano Che cazzo parli inglese? Anche io ho un'italiana triste Allora Ti piace Dragon Ball? A te ti piace Dragon Ball? Ma troppo che so io Sì E Te Vediamo un po' che risponde Qual è il tuo personaggio preferito? A me Piace Bulma Penso come tanti voi Sporcaccioni Hai mai visto Mirmo? No Che cazzo è ragazzi Mirmo? Eh Mirmo È una manga Ma che cazzo? Ti piacciono gli anime? Sì Più o meno ragazzi Però sì Qual è il tuo personaggio preferito? Eh Che cazzo si ricordano? Vabbè però metto Dai mettiamo questo acqua Tokyo Goal E parla E Parla in spagnolo Ma perché? E di che si tratta? Penso sarà così Lo spagnolo è abbastanza capibile Eh Se non ti metto da spiegare Della Tua Vaggi Non mi dissocio Davvero? Sì Mi dissocio Tu che lavoro fai? Lo stupato Lo stupato No non è vero No No sono solo Georgia Che cosa c'entra in tutto ciò? Questo qua l'episodio su Eevee Non sarà durato tantissimo Spero che vi piaccia Se volete dimmi qualche domanda qui sotto nei commenti per il passione episodio Intanto ho altri episodi da fare Non su questo gioco ma su altri molto bellini alla fine Poco family friend ma molto bellini E niente ci vediamo Eh Doma Stasera o domani in live Forse domani al 7 Giustamente Quindi penso domani in live Sì perché tornerò Comunque Non so se l'ho fatti Ma auguri per il nuovo anno E auguri per la Befana Perché sì Uscirà domani Quindi il 7 E purtroppo non farò live stasera Quindi niente Ci vediamo Quindi domani O in un video o una live alle 9 E niente Ciao belli Ciao